Amici di Giappone a quattro mani, un vlog giusto per farmi sentire ogni tanto, per se no dite che fine hanno fatto quei due, siamo sempre qua, siamo in pausa, siamo in attesa di novità, Andrea non c'è in questo momento, anche perché vabbè sono a casa mia, a casa di mia mamma, e perché è presissimo dall'università, quindi è per questo che siamo un pochino assenti dal canale con video nuovi, siamo assenti anche da Twitch in questo momento, perché per fare video fatti da sola, fatti male, senza mezzi, senza il suo aiuto, allora preferisco aspettare un pochino, abbiate pazienza e poi ripartiremo spero dopo questi esami, ma ci siamo quasi, in bocca al lupo Andrea perché ne hai bisogno, vedo il mazzo che ti stai facendo. A parte questo, che dire, io adesso non ho avuto particolari novità dal Giappone, sembra sempre che debba poter partire a marzo con tutte le restrizioni e con tutte le accortezze che dovrò avere, che vi ho già detto nel video scorso, per riassumere, tampone prima, tampone dopo e quattordici giorni di quarantena non nel dormitorio universitario, che comporterà il dovere prendere un albergo vicino all'aeroporto o comunque prendere un mezzo privato, perché non potrei salire su mezzi pubblici se voglio arrivare, diciamo, un po' più vicino all'università. Ma tanto, starei chiusa quattordici giorni senza poter uscire, quindi poco cambia. E appunto l'unica cosa mi hanno chiesto ulteriori documenti, quindi la cosa è ancora attiva, ma purtroppo, purtroppo sono pirla e è successa una cosa gravissima, non trovo più il passaporto, io spero tanto che sia in casa finito, caduto, chissà dove, se no dovrò rifarlo e a parte la spesa, che sono, mi sembra, 130 euro, una cosa del genere, rifare il passaporto, cosa che però mi renderebbe un po' più tranquilla, perché il mio vecchio passaporto, quando me l'hanno fatto, me l'hanno dato maffo, nel senso che ha un pezzo di lucido, quello che mettono sopra la parte dove c'è la foto, che manca. Quindi, non so, sono anni con l'ansia che dico, quando partirò me lo accetteranno un passaporto del genere? Cioè, è una cosa che vedi solo contro luce, però se lo controlli, vedi che sta a fare per un terzo di pagina, manca. Ero in dubbio se rifarlo comunque. La cosa che mi rende perplessa, però, è, io ho mandato i miei documenti, tra i documenti, la fotocopia del mio passaporto. Quindi, se avrò un passaporto diverso, io lo dovrò comunicare, spero che non mi crei problemi. Non lo so, non lo so, sono un po' angosciata da sta cosa. Anche se non ritrovassi rifarlo comunque per quel problema lì, o meno. Comunque, vabbè, una cosa semplice, mai. Quindi, a parte questo, in questi giorni vi voglio segnalare, perché veramente, ragazzi, se guardate una serie, sia di animazione che un telefilm, eccetera, non vi fermate alla prima puntata, ma neanche alla seconda, perché in questi giorni sono impallatissima, non so se l'avete mai visto, con l'anime di Shokugeki no Soma. Si chiama in italiano, mi sembra, le battaglie... Food Wars, Food Wars, che è, vabbè, inglese, le battaglie culinarie di Soma, una cosa del genere, che poi è la traduzione letterale, questa qua. Perché? Ho visto la prima puntata, ho detto, vabbè, disegni carini, insomma, non male, però tutto questo fanservice, questi qua che assaggiano la roba e si denudano, una cosa fatta apposta così per il fanservice. E invece, visto che, vedi la cosa, come l'ultima occasione, gli ultimi pezzi, no? Come quando vi fanno le offerte, ci sono cascata, perché ho letto che il 14 dicembre andrà via da Netflix. Penso che tolgano tutte le cose con i diritti della Yamato, della Yamato Video, una cosa del genere, perché ho visto che le avevano inseriti tempo fa, forse l'anno scorso, e adesso stanno togliendo tutte, tutti gli anime, diciamo, che mi sembra siano della Yamato Video. Non vorrei dire una cretinata, però, questo, Shokugeki no Soma, poi Daganompa, mi sembra, Assassination Classroom e altri. E ho detto, no, cavoli, prima che li tolgano, diamo un'occhiata. Per primo ho guardato questo, ho detto, quello che mi piace di più, magari me lo guardano. E cavoli, ma è bellissimo, è incredibile, cioè, è una cosa favolosa. Sì, ho imparato un sacco di cose sulla cucina giapponese, ma anche sulla cucina italiana. Perché? Perché ci sono due personaggi, mezzi italiani, sono Half, i fratelli Aldini, Rudini, e sono bellissimi, perché poi a parte, vabbè, che dicono le parole italiane, a me fanno sempre morire i giapponesi quando infilano parole italiane nella lingua giapponese, appunto, perché c'è la famosa mezzaluna, che è questa, la mezzaluna nostra, no? E lui c'ha questo coltello speciale che è la mezzaluna, e poi i nomi dei piatti, poi magari per dire contano tre, due, uno, sembra un po' bergamaschi, se voglia. No, è bellissimo, veramente, ragazzi, se non l'avete visto e avete Netflix, avete tipo quattro giorni per guardarvi due stagioni. Peraltro io adesso dovrò recuperare da qualche parte le altre stagioni, perché le voglio, cioè, voglio assolutamente vedere, mi sembra siano quattro. Fantastico. E quindi io ho tempo tolto al sonno, perché non allo studio, ma al sonno. Perché mi metto magari una puntata prima di andare a dormire, e poi me ne guardo cinque. Per fortuna dura una ventina di minuti, quindi, vabbè. Comunque no, volevo segnalarvi questo. Se avete Netflix e non l'avete visto e volete vederlo, ragazzi, maratona, prendetevi due giorni, tre giorni liberi, perché adesso tolgono tutto. Mannaggia la miseria. Altre cose, niente, sono presissima dal lavoro, che, come vi dicevo, ho vinto un bando universitario, sono mediatore digitale per lingue, ma non ne stiamo cavando un ragno dal buco, perché la gente non ci risponde. Noi lavoriamo per gli studenti, ma gli studenti non ci considerano, quindi dovrò trovare metodi alternativi. Vabbè, questo è un piccolo sfogo. Però, fortunatamente, adesso mi sono infilata un'altra cosa organizzata da altri tutor, e quindi sarò responsabile dell'aula di giapponese, di studio di giapponese e del primo anno, quindi almeno rientro a fare qualcosa nell'ambito che mi interessa. Insomma, dai, potrei essere utile a qualcuno, perché adesso mi sento parecchio inutile in questo lavoro. E per il resto, niente, non c'è un resto, fondamentalmente uscire, non si esce, più che altro appunto perché Andrea ha da fare e siamo riusciti un giorno a scendere sotto casa sua per farmi insegnare a giocare a tennis. Mi piace, mi piace, non l'avevo mai giocato, forse avevo provato una volta così e mi piace, solo che appunto non c'è stata più occasione e anche perché il tennis è uno sport che in questo periodo va molto bene, cioè più distanziamento di così sei uno da una parte e uno dall'altra parte del campo e non c'è nessun altro, quindi è ottimo. Però appunto, se non c'è il tempo, quindi aspetterò per tirare fuori queste mie doti da tenista. Però la pallina almeno la becco, poi non so dove la mando, però no, ho bisogno di uscire, ho bisogno di muovermi perché veramente, a parte che appunto c'è sto freddo, adesso si schiatra dal freddo e anche solo per dire uscire cinque minuti a che ne so, fare quattro passi, non posso fare come quest'estate che mi facevo un giro, mi mettevo su una panchina, studiavo lì da sola con calma, però mi prendevo l'aria fresca e non si può neanche andare su a Giusevallo, adesso sì, perché adesso ci si può muovere da comune a comune, ma c'è la neve, cioè, quindi dove vai? Cioè nel senso, mi piacerebbe andare a farmi quattro passi nel bosco con la neve, ma già convincere Andrea ad andarci l'estate era un trauma, figurarsi, convincere ad andarci adesso, cioè proprio una roba proprio assurda che mette un piede fuori e mi dice fa freddo torniamo a casa, comunque non so ragazzi voi come ve la state passando è un momento di sospensione, insomma si cerca di arrabattare come si può sopravvivere che altro anche a livello economico e insomma io che dovrei anche mettermi da parte dei soldi appunto per per trasferirmi in Giappone però ragazzi alterno periodi veramente di non voglio dire depressione perché la depressione è un'altra però insomma sono un po' frustrazione 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 è la parola giusta perché fai tanti sforzi e poi rimani un pochino così sospeso mi sento sospesa comunque ricapitolando il canale non è morto ci siamo stanno tra l'altro siamo stati ospiti su twitch del canale di Davide di Tiva di Giappone insieme a Davide Bitti abbiamo parlato del GLPT spero tanto che la ricarichi poi su youtube perché è una live che mi è piaciuta molto è uscito sul canale di Dani Glotta Traveler dico come lui se no ci rimane male è una nostra intervista che abbiamo girato questa questa estate e adesso ho finito di editare finalmente il video sugli assaggi alla cieca dei vari noodles liofilizzati tra le quali anche il famoso sai che buon che è il nostro video virale sul canale una merda dei video scusate e l'ho detto e comunque da questo spero sia simpatico e carino alla fine taglia taglia è rimasta comunque mezz'ora di video ve lo dico però è divertente c'è la preparazione insomma uno dei pochi momenti di convivialità che abbiamo avuto quest'estate quindi se vi fa piacere guardatelo e uscire appunto a breve per andare riesce a mettermi due o tre cose le tabelle con i risultati e quelle cose vi saluto che mi sono già dilungata fin troppo undici minuti di video per dire nulla comunque vi saluto e se non ci sentiamo più come si usa dire vi auguro buone feste per quello che è possibile ciao a tutti